Il lavoro e la crescita sostenibile sono queste le priorità indicate dal candidato alla presidenza della regione Giovanni Legnini quale anticipazione di un più ampio programma di governo che verrà presentato nei prossimi giorni e che sarà il frutto di un lavoro di coinvolgimento di tutte e otto le liste coalizzate coordinato dal professor Luciano D'Amico, ex rettore dell'Università di Teramo. Sul lavoro e la sostenibilità ha anticipato Legnini inaugurando la sede del suo comitato elettorale e a Chieti in via Spaventa abbiamo le idee chiarissime, provvederemo a destinare da subito nuove risorse finanziarie per il lavoro e lo sviluppo in particolare l'idea è quella di introdurre una valutazione di impatto preventiva su ogni norma di legge regionale e su ogni decisione per quanto riguarda la spesa in modo che vadano verificati gli effetti positivi sull'occupazione e sul sistema delle imprese ogni nuova legge insomma conterrà il computo dei nuovi posti di lavoro che fa nascere in attesa nelle prossime ore dell'esito del ricorso della lista Avanti Abruzzo in provincia di Chieti si è messa in moto, ha ricordato Legnini, l'energia di candidati davvero rappresentativi dei mondi della regione e pronti a scrivere insieme il suo futuro Ed è un appello che è stato raccolto, è stato pienamente raccolto perché noi abbiamo composto otto liste per larghissima parte rinnovate, il 44% delle candidature sono femminili 102 donne, 8 ventenni, 26 trentenni, 66 quarantenni e quindi Grazie a tutti.